Miei carissimi milanesi, la nostra città è una città complessa, lo sappiamo, difficile a volte da raccontare e complicata da comprendere. Ma c'è chi a un certo punto ha deciso di usare una parola che forse era quella che più rappresentava la nostra città. Perché la nostra città, forse la sua unicità, la si può definire solamente definendola semplicemente Milano. Sigla. Semplicemente Milano qualcuno ha voluto usare questa frase, ma forse come dicevo è la migliore delle fasi per definire l'unicità della nostra città. Penso che nasca da quello, ma non lo so, lo chiedo a colui che questo sinonimo lo usa da tempo. Andrea Kerchi, buonasera. Ma buonasera a te Fabio, Fabietto, mi fa veramente tanto piacere essere qua. Sono contento di averti qui nel nostro studio. Anzi, semplicemente Fabio voglio dire. Semplicemente Fabio, potevo mutuarlo per il nome di questa situazione. Bello, bello, bello. Tra l'altro ti seguo, è veramente bellissimo questa trasmissione. Però so che se usassimo semplicemente Milano, in realtà il copyright non è proprio tuo, giusto? Intanto quando è incominciato tutti mi dicono, Andrea, no, no, semplicemente Milano, Milano non è una città semplice, è tutt'altro che semplice, ma vedrai, te lo banneranno, è rimasto lì. Io in realtà non è nuova, non l'ho inventata io, semplicemente io l'avevo già vista da qualche parte, forse un ristorante, un bar. Io so che poi, a un certo punto, anche tuo papà mi sembra che usava questo modo di dire, giusto? Sì, assolutamente sì. Io l'ho presa da lui. Ecco, perché cosa diceva lui? Lui diceva, guarda che Milano è semplice, è una città semplice, tutto quello che è bello, bellissimo, tutto quello che racchiude la bellezza di questa città è semplicemente Milano. E lui lo diceva proprio così come intercalare. Allora ho detto, prendiamolo da lì. Ma so che non era nuovo, perché l'avevo già visto da qualche parte, però ti devo dire la verità. Mio papà sicuramente, che usava questa espressione già da quando era ragazzo, credo l'abbia inventata lui. Quindi l'ho copiata da lui. Un po' tributo di famiglia. Sì, sì, a lui devo tutto, tutto l'amore per Milano, ma anche tutta la conoscenza di Milano, perché sebbene i miei racconti siano stringati, molto senza grandi pretese storiche, di dettagli tecnici, però comunque io mi ricordo che mio papà, per un dettaglio che io ci metto un minuto all'Andrea Kerchi, Emilio Kerchi ci metteva due ore, partiva dal mille di... Cosa faceva il notaio? Il notaio. E quindi facendo il notaio era già una persona... Era abituato ad essere già preciso, poi lui era una persona di vecchio stampo, quindi quando raccontava non si poteva interrompere, non potevi dire scusa non ho capito, scusa non è così, ma secondo me, non esisteva secondo me, però ci ha fatto innamorare, ci ha fatto innamorare e mi ha dato anche un po' di disciplina, sebbene io sembra un po' molto divertente, però... La disciplina di Andrea Kerchi la si riconosce nel momento in cui ti si vede praticamente in ogni evento che conta nella città di Milano, a volte c'è gente che dice anche contemporaneamente in più eventi. Sì, esattamente, siamo in due, allora dalla mia stazza si direbbe siamo in due sicuramente, perché se tu dividi... C'è chi può giurare di averti visto nello stesso momento sia in Piazza del Duomo che alla Bobbisa, c'è chi dice... Ha giurato bene, ha giurato bene, c'è chi dice così... Se dividi in due Andrea Kerchi sono sempre 100 kg... Ecco perché mi viene bene stare in onda tante ore, ma allora va bene... Va bene Fabio... Dicevamo, tuo papà milanese doc... Sì, milanese doc, invece mia mamma piemontese, però poi ha seguito subito, loro si sono conosciuti, mia mamma faceva l'università qui a Milano, si sono conosciuti qua e hanno vissuto tantissimo tempo qui, quindi loro si sentono milanesi, mio papà con un cognome sardo, tra l'altro anche involontario, perché mi ricordo che quando era qui mio papà che aveva un accento milanese proprio incredibile, diceva io sono proprio di Milano e tutti gli dicevano tu non sei di Milano perché hai un cognome sardo, quando andavamo in Sardegna dicevano io ho origini sarde, ma noi quando arrivavamo ci chiamavano i milanesi, ah guarda arrivano i milanesi, tu sei andato a Milano, no tu non sei andato a Milano, io sono andato Questo fa capire che però tu sei un vagabondo un po' di queste zone, perché tu sei andato a Como, ho cresciuto poi a Milano, adesso però non vivi più a Milano, giusto? Non vivo più a Milano, vivo a Vercelli, però sono sempre qui e quindi la casa di famiglia è qui, sono sempre qui, quindi praticamente dal mattino fino alla sera per scelta, perché mia moglie Erika e mia figlia Vittoria abitano là a Vercelli, abbiamo pensato di tornare qui, però per loro era un po' chiedere un sacrificio, per me in fondo sono giusto E già sappiamo in questo momento, abbraccio e saluto Erika, so quanti ne fa già dei sacrifici Santa subito, come dicono tutti Tutte le volte che metto una foto, una foto con lei, almeno dieci commenti sono Santa subito Prima di tutto non si spiega come una bella donna come Erika abbia scelto uno come te Esatto Questa è la prima domanda che ci si fa Aveva dei problemi, non era ancora data dall'oculista, ci è andata dopo, dopo il sì, dopo il mattino Dopo il sì, ormai però, ormai il dad era tratto No, oramai non ha più detto niente, pensa che i miei suoceri quando ci siamo conosciuti l'hanno guardata, poi me l'ha raccontato dopo divertita e fa ma scusa Andrea guadagna cioè porta a casa uno stipendio Sì, come no, ma tu all'epoca, scusate, lavoravo Tu eri un uomo dello spettacolo Sì, sì, però sai Quanti anni fa ti sei sposato con Erika? Io mi sono sposato 23 anni fa 23 anni fa tu avevamo votato la televisione Sì, però Ma quanti non lo sanno, molti ti vedono in giro, spigliato, fare le foto, tu sei un grandissimo fotografo adesso Però tu non nasci come fotografo No, io sono entrato in una televisione privata che dovevo fare tutt'altro Poi la persona che conduceva il telegiornale se n'è andata No, no, se n'è andata Come i migliori campioni di basket che entrano nel momento in cui si fa male con l'auto Dal lunedì che io dovevo fare mixer, audio, quelle cose lì che piacevano già a me Insomma, cose con le immagini Kerki, prego, lei leggerà il telegiornale E sono seduto, i primi, ho ancora le registrazioni ma non le vedrete mai Le prime registrazioni erano imbarazzanti Muovevo le mani così Ero imbarazzato Poi era un periodo che facevo dieci lampade al giorno Perché avevo questa fisima, io dovevo essere abbrozzato Quindi apparivo in video tutto nero Ragazzi, in fine degli anni 90 Nero così che facevo, avevo questa cosa qua Allora poi C'è un Carlo Conte Esatto, Paolo che era regista bravissimo mi ha tagliato le mani Andrea, portiamo a casa le mani così almeno non avrai più problemi Il problema è che rimane... Poi vabbè, sono andato, mi sono sciolto un po' Poi da quel momento lì ho condotto tutto Dallo spot del salumiere, facevo tutto perché eravamo in pochi Dallo spot del salumiere fino ai dibattiti politici Poi ho detto Andrea, basta a televisione E come ci sei finito con la fotografia? Eh, perché poi ho incominciato... Che poi anche lì ci sei finita la fotografia Ma non è che hai finito a fare il fotografo così tanto per... No, con le pubblicate ogni giorno dai giornali più importanti d'Italia Sì, però, che cosa facevo? Scrivevo dei pezzi, dei pezzettini per le piccole redazioni Ho incominciato anch'io per fare il patentino, il tesserino da giornalista E che cosa succedeva? Che non ero mai soddisfatto della scelta della fotografia Perché loro usavano delle foto Allora ho incominciato a portarmi dietro la macchina fotografica con rullino Piano piano, vabbè, le redazioni poi sviluppavano ogni tanto le cose Allora ho capito che magari mi sarebbe anche piaciuto accompagnare In realtà io non ho incominciato come fotografo Ho incominciato proprio come fotoreporter Perché io accompagnavo con una sola immagine Accompagnavo il testo che scrivevo Però lo sceglievo io Perché magari facevi Instagram perché se fosse Instagram Esattamente, io ho sempre fatto le cose prima Ma poi sono arrivati altri Le facevo così per... Diciamo che un po' tutti, anche credo anche tu Abbia fatto delle cose che poi sono diventate normali Sì, e a differenza di molti che si arrabbiano con queste cose Non so te, io invece sono felice Perché tanto allora, diciamo, se io anche avessi inventato Instagram, no? Non avrei mai avuto i soldi per farlo Ma guarda, io ti dico una cosa Quindi che sia andato qualcun altro a farlo Quello secondo me rientra tutto nella categoria invidia, gelosia Quella cosa lì che... Cioè quando mi rubano le idee io sono contento Quell'idea finché rimane nella mia tasca Ti assicuro che invidia e gelosia Sono le due grandi fonti di perdita di tempo Io non riesco neanche a catalogarle come cose Ti fanno perdere tanto tempo E quindi io da tempo ho deciso che Vabbè non lo sono mai stato Però voglio dire ho pensato Dico meno male Andrea che non hai mai patito di queste cose qua Perché almeno non hai perso tempo Non hai perso tempo a rincorrere uno, l'altro, l'altro ancora L'ho sempre fatto di testa mia e soprattutto un pregio che posso avere Ho sempre detto la verità a tutti in faccia E no ma hai caldo No non è che ho caldo C'è questa cosa che Andrea che è anche una brava persona Non ci crediamo Ma no 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 ma infatti non ci crediamo Dimostraci che non sei... Ti vogliono bene tutti Sei bravo, buono e con tutti Sai con cui ti fai incazzare Non ti arrabbi mai? No veramente è carattere questa cosa qua È veramente il carattere Cioè se tu chiedi in redazione del mio di carattere Non chiedelo per favore No 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 ma l'ho capito Cioè quando sono entrato c'era il terrore Dicono che ho le problemi con la gestione della rabbia Ecco probabilmente se facessi un... Avessi un moto di rabbia Cosa che ti fa arrabbiare? Quando non ho il mangiare davanti Ma non mi arrabbio con chi non me l'ha preparato Dico Andrea se sei arrivato alla mezza non hai da mangiare Mi arrabbio è l'unica cosa No sto scherzando Invento qualcosa non c'è niente che mi faccia arrabbiare Sono molto sereno Guarda Fabio sono molto sereno per la storia che ho alle spalle Perché comunque ho sempre pensato a quella Adesso non è che tutte le volte... Vai a raccontarci un attimo Non so di cosa stai parlando Magari non tutti quelli che ci seguono sanno Certo certo però io ti dico Non è che tutte le volte penso non mi arrabbio per quello Però quella mi ha dato... Cioè la storia dell'adozione Mi ha dato una grande serenità Tu nasci a Como ma sei poi adottato dai signori Cherchi Esatto che decidono di salvare la persona un bambino L'hanno salvato la mia E questa cosa qua poi nel corso degli anni mi ha veramente dato tanta serenità Perché ho sempre pensato inizialmente Dico beh c'era proprio in me questo pensiero Dico beh vabbè ma tu sei stato un anno in un ospedale Hai rischiato veramente di morire Perché come ti hanno lasciato Non ti hanno lasciato proprio perfetto E così E adesso hai la fortuna Mio papà era un notaio Quindi i problemi economici non ne abbiamo mai avuti Mia mamma era un assistente sociale Insomma ho fatto una bella vita Sebbene mio papà non era quello che ti allungava Tre prendesi nota su tua mamma E faceva assistente sociale Ma ha lavorato in Rai Sì allora Questa nota strana Allora adesso ti spiego Non perché sono tutti degli scappati di casa in Rai Ma perché cos'è che è successo? Allora è successo che lei faceva l'assistente sociale Un po' freelance La faceva alla Innocenti Quindi all'Ambrate E la faceva alla Rai Una sorta di welfare aziendale Esatto Quando io ho incominciato questa carriera Lei mi ha lasciato degli indirizzi Di persone che lavoravano in Rai Perché diceva questo è il tuo mondo Contattali Io ho provato a contattare un paio di persone Che erano già morti da tanti anni Ci erano passati un po' di anni Adesso non ce ne vogliono Ma scusa guarda che sono morti Io non conosco nessun altro E basta In realtà Quanto sono stati importanti i tuoi genitori? Eh tanto Veramente tanto Ma mi hanno salvato la vita Sai Sembra strano Sembrano tutte frasi fatte Ma io mi sono fatto promotore di questa cosa qua Perché tante persone mi hanno scritto in privato E mi dicono Beh noi non siamo stati così fortunati con l'adozione Allora ho sempre pensato che magari Parlandone Aiutandone Hai bisogno di collaborare con alcune associazioni No? Sì sì ma anche perché certi ragazzini Magari Allora io sono un boomer Lo vedi Ho 54 anni Quindi non ho speranza Però tanti ragazzini magari vedono in me Un buon punto di partenza Beh lui fa il fotografo Piacerebbe anche a me Mi scrivono E tra questi ci sono anche persone adottate Alle quali io ho proprio detto Si sono confidati un po' Dicendo Ma non mi trovo bene Io voglio assolutamente conoscere i miei genitori naturali E tutti Ho detto Guardate dove sono arrivato io Che mi sono veramente divertito tanto in vita mia lavorando Ecco io ero e sono uno come voi E di questi problemi non me ne sono fatti Perché No Non ne hai mai voluto conoscere i tuoi genitori naturali No Ne hai mai cercato Ma no Cosa cercavo Ma non cosa cercavo Senza mancare di rispetto Io alla persona che mi ha messo al mondo Voglio un bene dell'anima Perché ha deciso di mettermi al mondo Ma che cosa le dico Ha fatto quello Sì Ci abbracciamo Quello me lo immagino come scena Ma poi L'affetto si costruisce stando insieme Tutta la vita E quello è quello che è arrivato invece Dalla signora Kerch Esatto Oltre poi ad affetto Anche disciplina Dicevi Sì a casa mia non è che Allora vabbè Intanto Uno dice Notario Quindi settimane bianche No Mio papà non era uno Mio papà La parola paghetta non esisteva Diceva Tu vivi sotto questo tetto Noi ti diamo da baggiare Tu devi studiare Crescere Sei sereno Sei felice Non hai bisogno di andare a fare settimane bianche Ti faccio mancare niente in mano Ma non ti abituo Non ti abituo ad essere Un figlio viziato E mia mamma Idem Nel senso che Come va con tua figlia? Va bene Mi chiedevo Mi chiedevo Adesso ti raccomando Tra me sei diventata ormai una ragazzina adulta Sì a vent'anni Ha fatto la patente adesso Ha fatto la ragazzina Io guarda non l'ho portata a guidare È andata mia moglie Perché alla prima guida che abbiamo fatto Momenti facevamo un mega incidente Coppa tua Eh beh ovvio Perché sai quando ti prende il panico No mia figlia Allora io mi ricordo Quando venivano i miei genitori a casa A mangiare A casa mia si mangiava con i sottopiatti d'argento C'era Mio papà veniva da una famiglia nobile E quindi era rimasto con questo Del 31 No ma lui bisognava Quando tu mangiavi anche una mela Merenda Sottopiato d'argento e centrino Quando veniva una casa mia Il cane Sul tavolo Che questa mela la finiva Senza centrini Senza sottopiatti Senza niente E quindi diceva Beh è un po' cambiata Vittoria è stata sicuramente più libera Di quello che ero Di quello che ero io Sono molto solidari con Vittoria Sì sì assolutamente Anche lei santa subito Le mie due sante Sì sono Le due due sante sono quelle che poche T'hanno permesso comunque Un po' di fare quello che vuoi fare Esattamente Non mi viene da dire Ho sbaglio Non mi do troppo importanza Allora tu hai detto Andrea Kerchi è in piazza del Duomo In piazza Poco ci manca Però Questo lo devo molto a Erika Che mi dice Questo è il tuo lavoro Fallo bene Non farlo male Non pensare che adesso Noi dobbiamo andare a fare la spesa Alle 6 Se tu devi finire alle 8 Finisci alle 8 Se devi finire alle 9 Tu fallo bene il tuo lavoro E ha sempre pensato a questo Lei è un'insegnante Quindi ha un orario Cioè un orario Preciso Preciso Comunque al pomeriggio Lei corregge Sarà forse il nome Che allora le rende così sante Saluto la mia di Erika Sì sì Santa anche lei No lei è già È già stata santificata Questo amore Per la città di Milano Ti ha portato Praticamente a inventare Un mestiere Che prima non c'era Un mestiere che tecnicamente Non ti ha dato da vivere Niente Tu fai tutto un pro bono Poi ovviamente ti ha aperto Però chissà quante porte Sì è stato Dicevo il mio biglietto da visita Quando le persone Vengono da me Mi dicono Mi dà il suo biglietto da visita Io in realtà Non so mai che cosa fare Prima o poi Me li dovrò stampare Sti biglietti Ma non so mai che cosa fare Perché dico Ma Io sono vecchio Sono nato già vecchio No E faccio vedere la pagina Allora loro vedono Come lavoro Ecco questa pagina Che è assolutamente gratuita Tutte le persone Che vengono invitate da me Tutte le persone Che partecipano Lo sai che odio Quando mi intervisti Allora facciamo vedere così A chi stai scrivendo Sto scrivendo Alla regia Sono genosissima Sto scrivendo Alla regia Sto chiedendo Dai più luce in faccia a Kerki Sto chiedendo Sto chiedendo Sto chiedendo Sto chiedendo Sto chiedendo Ti dice Ti dice No adesso mi hai fatto Perdere il filo Allora vuoi dire Sto chiedendo Alla regia Sto chiedendo No stai scrivendo a Erika Sto chiedendo No ma non abbiamo timing Non si può Grazie regia Grazie per la risposta L'appassimato ve lo chiedo Dammi questo telefono L'appassimato ve lo chiedo in diretta così Tanto ormai Abbiamo svelato I trucchi del mestiere Beviamo insieme Dalla nostra tazza di Milano News Che buono questo prosecco Dove Perché è buono qui È buono qui È acqua Allora boh Mi sono perso Prossima domanda Dicevo No Che questo mestiere Te lo sei inventato da zero Sì E che è un mestiere Che non ti dà ovviamente Uno stipendio a fine mese Ma ti ha dato tanta tanta visibilità In questa città Ecco Forse è stato un po' All'inizio non sapevo neanche Cosa sarebbe successo Di questa pagina Ho dovuto addirittura Cambiare telefono Perché avevo messo il telefono Avevo fatto un po' Posso usare un termine Dai Avevo fatto un po' lo sborone Ok Ma si è guai Chiamatemi se avete bisogno Ma avevo 500 follower Mi chiamava una persona Ogni tre mesi Adesso quanti follower c'hai? Follower sono 163 mila A metà follower Quindi eravamo 80 mila Ho detto Andrea ma qua ti stanno chiamando tutti Aiuto E io che cosa Poi non sapevo neanche rispondere Non so Mi vedevano con Mara Maionchi Facevo un selfie con Mara Maionchi Andrea mi aiuti Mio figlio vuole entrare a X Factor Queste cose qua E io non avevo il coraggio Di poi al telefono Non è che dicevo che potevo farlo Però non avevo il coraggio di dire No guardate avete sbagliato E mettevo giù Stavo ad ascoltare E il problema è che le telefonate E' incominciato ad essere tante Allora ho cambiato il numero di telefono E non l'ho più rimesso quello lì Però comunque no Mi ha aiutato tanto con il lavoro Perché io comunque faccio il fotografo Faccio il giornalista Però quella pagina è rimasta sempre pura Ovvero Chiunque ha avuto bisogno Sono una bottega storica Andrea Dammi una mano Visibilità Io ho sempre detto Non è tantissima la visibilità Però è buona E quindi non so Prendevo Andavo a conoscere Si conosce così anche le persone Si entra anche in contatto con loro Sempre da tutti Dicendo Non voglio regali Non voglio niente Perché poi alla fine Magari quando finivi Il servizio Ti ottieni questo regalo No Perché tu sei una bottega storica Sei un artigiano Produci queste cose Confermo Io ho fatto il nome di chiacchi In più di una bottega Mai una volta mi ha fatto lo sconto No 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 Anzi ti ha fatto pagare Quella camicia che indossi Anzi quando avanza punto Mi ha fatto pagare di più Mi ha fatto pagare No 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 E alla fine ho sempre pensato Ragazzi voi producete delle eccellenze Le regalate a me Ma perché Io sono venuto qua per mia scelta Non siete Molti ti chiamano Ma vado volentieri Cerco di andare da tutti Perché quella pagina lì Serve a promuovere Milano Da quant'è che C'erai quella pagina Eh da sette anni Ti ricordi la prima foto Che hai pubblicato? No però mi ricordo Il primo premio che ho vinto Con te No la prima foto non me la ricordo Sarà stato sicuramente il Duomo Il Duomo O il Duomo forse Porta Nuova Però mi ricordo Che con questa pagina Il primo premio assoluto Che ho vinto Vabbè ho vinto anche io Le medagliette Sai dello sport Il nuoto Ultimo classificato Io ho quelle medaglie Io ho un secondo posto Alla giochia da gioventù del 94 Che bravo Che sei il fisico sicuramente Salto in alto Salto in alto Ascoltami Salto la circoscrizione di Cisliano Mi ricordo No mi ricordo Il primo premio qua Il Milano News Quello mi ha portato Veramente tanta Abbiamo stato E invece è ancora lì È legno di Milano Lo sai che è legno di Milano No no ma io lo so È legno di questo città di Milano Quindi è un pezzo di Milano Hai in casa Ah ok No ho vinti tanti Ho un albero Sì fatti Fatti Ti ho messo in pila Dai se non ti ricordi la prima Invece è quella A cui sei più affezionato Di foto Io ne ho in mente una Vediamo se Allora in realtà Non ne ho una Alla quale sono particolarmente legato Perché Un fotografo Come me Non può affezionarsi Solo a una foto Perché darebbe troppa importanza Però quella più importante È quella di Emanuela Che saluta la mamma Dalla casa di riposo Era il tempo del Erano i primi giorni di covid Non c'erano ancora le restrizioni Ma le case di riposo Hanno detto Chiudiamo Chiudiamo i parenti Allora All'istituto Palazzolo Ma qua Sì all'istituto Palazzolo Vedo questa signora Che si sbracciava Dalla panchina E lei poi mi ha riconosciuto Io questo non l'ho mai detto Perché sembrava spacconeria Però a te lo posso dire Perché mancava un nesso Perché noi ci siamo parlati E cose Ma tu sei Andrea A quello della pagina Sì Ma cosa stai facendo qua Guarda sto salutando la mia mamma Perché non posso più entrare Perché non fanno più entrare i parenti E io la saluto da qua Ho chiamato l'infermiera Che ha detto alla mamma Di affacciarsi alla finestra E io la sto salutando Ho fatto quella foto E quella foto ha veramente fatto il giro del mondo Non solo d'Italia Perché è finita in prima pagina No non in prima pagina È finita su Corriere Nazionale In prima pagina su Corriere Milano E poi ha veramente fatto Ed è diventata un po' la foto simbolo E pensa che alla rincorsa Questo lo dico sempre a tutti Anche ai ragazzini Non rincorrete la precisione Quella foto Tecnicamente non valeva niente Quello lo sappiamo Non c'era nulla di affuoco È bella la foto Però quella foto raccontava una storia Addirittura Corriere ha dovuto anche ingrandire la mamma Perché la mamma era lontanissima E quindi per riprendere la figlia e la mamma Un compromesso fotografico l'ho dovuto raggiungere Però quella foto lì mi è rimasta veramente nel cuore Altre veramente non preferisco non dare importanza E anche quando mi hanno chiamato in televisione Sono andato la prima volta Poi non ci sono più andato Perché non volevo diventare popolare solo per quella foto Perché mi sembrava un po' di sminuire tutte le altre che avevo fatto Però con Emanuela veramente Poi è nata una benissima amicizia La mamma è tornata a casa Sta bene? Sta bene quindi a casa E quindi Quindi è anche bello vedi Fortuna anche lì Abbiamo fatto la foto Le delle grandi disgrazie che avevano uscire Hai fotografato la bella storia Sì poi sono andato a casa loro L'ho fotografata L'hanno ripubblicata su Corriere Quindi hanno raccontato che questa storia era finita bene Ovviamente un'altra del Naviglio col tramonto Allora quella sì Quella invece è quella che mi ha portato più fortuna Quella che mi richiedono tutti Quella con Simone Lunghi In realtà c'era andato un altro fotografo bravissimo milanese Che si chiama Alessandro Barberio Era lui Aveva chiamato Simone Lunghi Poveretto Alessandro Io saluto Poi mi piacciono tantissime la sua foto Però avevo chiamato Con un po' la storia di Preghe Rock Come era Celentano Quella doveva fare Ricky Gianco Qui è finita un po' così Qui è finita così Nel senso che Alessandro era lì da tre ore Che faceva questa foto Io sono arrivato lì Stavo andando tra l'altro a fare delle foto Era forse l'Epifania O il giorno prima Delle foto ai Fedra Che sono un complesso musicale Che suonavano in Sant'Ambrogio In Sant'Ambrogio In Sant'Eustorgio E passavo da lì Ho detto Ma vediamo se c'è il tramonto Arrivo Alessandro mi saluta C'è Simone Scatto la foto Quindi una serie di tre foto Me ne vado a casa La pubblico Successione incredibile E quella è stata una foto Ma poi perché c'è anche Simone Lunghi Quindi che è uno dei miei migliori amici Le foto sono importanti Anche se Ecco questo è interessante Quanti amici ti sei fatto con la fotografia? Allora no Io ho 5.000 amici su Facebook Ok 73.000 su Instagram In realtà ho 2-3 amici sinceri No non ne sono fatti Nel senso che Simone è uno di queste però Simone è uno di questi È un'amicizia importante Ma anche come con te Come Ci sono quelle persone Quelle 10 persone Alle quali Lo zio Gianni Gianni Bianchi Della cascina L'interno Ci sono quelle persone Però poi dopo Alla fine sei sempre un po' solo Nel senso che Nella tua professione Nel tuo lavoro Incontri tante persone Però tante persone Comunque sono anche di passaggio E È quello Però Una decina di persone Importanti a Milano Ci sono Che portano il cuore Tu accontri sempre cose belle Di Milano Ma Hai sempre i luoghi Ma Il luogo più bello di Milano Per te qual è? Il luogo più bello Cascina all'interno Cascina all'interno Zio Gianni Gianni Bianchi Gianni e Angelo Bianchi Anche Enrica Dominano sempre i fratelli Bianchi Ma c'è anche una sorella Enrica Gianni e Angelo Bianchi Sono veramente due Delle persone più belle Che io abbia mai incontrato Al di là Addirittura per me Gianni è diventato un parente Io lo chiamo Zio Ma non è una cosa Come si usa a fare Ah lo zio No sei carino Perché molto Tu chiamo il nonno Quindi sei gentile A chiamare lo zio Ciao Gianni Lui poverino Dovrebbe provare imbarazzo A conoscere uno come me Però è veramente È diventato proprio Uno di casa Uno di famiglia Anche suo fratello Anche Enrica In quel mondo lì È un mondo Che loro hanno saputo Rendere bello Gioviale Sì Non sapete di cosa stiamo parlando Cascina all'interno Fate un giro su internet Cascina all'interno Scritto da cattolo Con la posta E niente Fatevi un bel giro Perché è un posto magico Sì Sì Veramente Ma poi chiedete Chissà di milanesità Ma di una milanesità Che è quella che ci piace Di Gianni Gianni veramente Ti fa sedere Ti racconta tutto E ti fa innamorare di Milano E di quel luogo Sì Ma tanto A breve lo vedremo Assoluto qua Al posto tuo È il mio posto È nella to do list Il posto preferito In assoluto Tra l'altro Me lo chiedono Me la fanno tutti Questa domanda Tanti non sapevano neanche Dove fosse Poi si sono andati A Parco delle cave Zona Ovest di Milano Prima di Baggio Dopo San Siro Così lo senta male Ecco Vorrei che qualcuno Adesso provasse Con queste indicazioni Arrivarci in macchina Scusa Sono a Lampugnano Lungo la via Fratelli Zogna Va bene Facciamo così Esatto Così è più facile Ma 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 Eh me lo aspettavo Ma io credo di saperle In realtà la risposta Perché qualche anno fa A questa mia domanda Tu hai risposto Scrivendo un po' Un pezzo per Milano News Dove parlavi Un posto che Ti stava un po' Sulle scatole Che Milano Avesse abbandonato un po' Che era Meravigli Eh sì Si hai ragione Tra l'altro Non ci posso mai volentieri Perché Allora C'era questa galleria Tra l'altro Ci avrei anche aggiunto La galleria San Cristoforo Quella Lungo Corso Vittorio Però adesso Questa l'hanno riqualificata Meravigli Secondo me Allora Adesso io non ci sono E anche Piazza Mercanti Sì esatto Allora Piazza Mercanti È stata rimessa a posto Però adesso infatti Ha un po' Il problema del bivac E cosa Piazza Mercanti È andata a posto Il pazzo della ragione L'hanno rifatto bene È bello Tanti tavolini Però non importa Quella non dà Non dà fastidio Meravigli È da un po' Che manco Quella galleria lì Secondo me È un'occasione Un po' mancata Perché È un bellissimo posto Poi magari Adesso vado lì Ci sono 40 negozi Sto parlando di Dubito Che si è ripetata così tanto No ecco Quella è È un gioiellino di Milano Che i turisti Non c'è nessuna guida Che ne parla Quindi Non arrivano Però è un gioiellino Ti ho detto che No Devi parlare con la regia Ma ti si vede Che maneggia No non si vede Ti si vede che maneggia Al telefono È fatto apposta Allora Che perdo il filo Che perdo il filo Meravigli Guarda che È tenuta benissimo Quella galleria La regia Cosa ti ha risposto Timing Devo fare i conti Perché dovranno Mamma mia Che fatica Devi stare Sì No no Perché tu stai scrivendo a Erika Ma no Sto scrivendo la regia Non la mia La tua Non voglio vedere Gli screenshot No Meravigli Meravigli È bella Non è tenuta male È tenuta bene Il problema è che L'ha stata un po' Lasciata andare È un po' Mi è spiaciuto No se invece Dovresti invece chiedere Appunto Un altro luogo di Milano Che non ti piace tanto In questo momento Adesso Allora Non c'è un posto di Milano Che non mi piace Non mi piace vedere I borghi Soprattutto I borghi milanesi Quelli che sono stati La gloria di Milano I borghi milanesi Fatiscenti Lasciati andare Queste chiese Non ho un esempio In particolare Però se giri Nella tricheria milanese Non è tutto Rose e fiori Ci sono proprio Dici Caspita Ma qui c'è proprio È stata abbandonata Questa cascina Ci sono dei posti bellissimi Soprattutto Quest'anno poi ricorre Poi il centenario Esatto Ne sto parlando Proprio per quello Perché dico Ricorre il centenario Però Tanti sono stati Un po' lasciati andare Però vedi Anche lì Bisogna sempre cercare Il colpevole Perché Se non hai il colpevole Non sei contento Non ci sono colpevoli Quando una cascina Per cento anni Va giù Non puoi dire È colpa Di quello Quello Quell'altro È andata giù Chiunghi È passato di lì Un po' è colpevole Diciamo E soprattutto Non è facile dire Adesso la rimetto in piedi Perché comunque Ci vuole un fondo Ma ci vuole anche un progetto Basta sentire La storia di cascina all'interno C'è l'insegno Esatto Cascina all'interno È veramente tenuta bene In tutto e per tutto Torniamo alla fotografia Invece La foto che non hai ancora fatto Oddio Dai sarà quella foto Che avresti sempre voluto fare Non l'hai mai fatto Allora facciamo un passo indietro La foto che avresti sempre voluto fare E finalmente hai fatto Qual era? La foto panoramica Da torre Rai E ti giuro Sto tirando giù il mixer Sto tirando giù il mixer E ti giuro E ti giuro Che non ci sono andato Per conoscenza di mia mamma Però era un sogno Che avevo da bambino Salire su quella torre Mia mamma mi diceva Tanto non ci salirai mai Quindi non sognare E invece sono riuscito a salire Da lì Sono veramente riuscito a vedere Una a Milano Che piaceva a me Poi salire lì L'alta parola torre Rai I metri di altezza Non li so Se fosse su a Torre Branca Sono un po' più alti Il direttore della Rai Mi ha fatto questa Della sede di Milano Della Rai Mi ha fatto questa concessione E per me era stato Un grande sogno Quella è la foto che Volevo fare Da lì Sono riuscito a farla In realtà Poi mi sono reso conto Che quella veduta lì Ce l'avevo già da Torre Branca È più o meno simile Però salire lì sopra Per me voleva dire Un po' il lavoro di mia mamma lì Ma anche tutti i personaggi Come Tortora Limiti Tutte le persone Che sono passate da lì È stato bello Quella che non ho ancora fatto E vabbè Allora Faccio una premessa Non ti so dare una risposta Ma ti posso dire Ah tu sei Andrea Kerchi Tutti Tu sei Andrea Kerchi Puoi andare dove vuoi Allora Io racconto solo i sì Che mi dicono Ma non ho ancora raccontato Ma sarebbe male Difficilmente Milano Dove racconti tutti i no Che ti vanno Ci sono tante proprietà private Che intanto Dicono Vabbè Questa è una proprietà privata Quindi nulla Che possono anche Non condividere il mio progetto Di dire Allora Facciamo una premessa Io dico a tutti Che lo faccio Per far vedere Anche alle persone anziane Ci credo fermamente Però credo anche Che sia difficile credermi Uno dice Sì ma questo Mi sta raccontando questo E tanto vuole salire lui Vuole andare Vuole fare lui Chissà che cosa vuole fare E non sono le prove Dei tuoi giri Nei caricam Nei vari giri Allora Sono riuscito a vedere la foto Sono riuscito ad andare Ad andare In tanti posti Mi mancano ancora tanti posti Ho 54 anni Spero di Insomma di avere la fortuna Di Ecco sì Nelle case di riposo È stato bello È bello andare Anche nelle scuole È bello Nelle case di riposo Guarda Ti smazzano di brutto Perché tu arrivi Tutti Mi faccio Bello con le mie foto Molto colorate Poi le persone anziane Invece ti raccontano La loro Milano Che non è la tua E allora Le volte dopo che vado Di solito porto le foto In bianco e nero Che non sono mie E quelle riscuotono Un grande successo Della vecchia Milano Quando proietto le fotografie Non c'è mai una fotografia Che la passa liscia Perché tutti gli anziani Fanno un commento È bellissimo Perché tu stai lì Un paio d'ore Lì è dove c'era quello Lì non era così una volta Che schifo Cos'è sta cosa È bellissimo Perché finalmente Loro ti raccontano Milano Passano un paio di ore E poi si conclude Sempre cantando Mia bella madonna Dove loro la sanno perfettamente È tutto La prima strofa Chiedi ovviamente La prima strofa Come tutti quanti Un malino di mameli Che si fa solo La prima strofa Esatto Fotografi Luoghi Panorami Poche persone I ritratti Sì La ritrattistica È complicata È complessa Poi Guarda Tu sei stato Un ritratto Sul famoso libro Di Milano Che ormai è Milano C'era la foto tua Se non c'era male Forse anche Poi la copertina Forse lo credo Se non è stato male Però Però No Preferisco i panorami Preferisco i dettagli Preferisco la Cosa ti hanno fatto le persone No non mi hanno fatto niente Nel senso Anche perché Quando ci sono gli eventi Fotografo Faccio tanti Primi piani Però penso di aver trovato Una specialità Ledi Gaga Ah sì sì Ricordiamo Hai fatto foto Ledi Gaga Sì Ledi Gaga Poi Madonna forse anche Ledi Gaga Ma diversi personaggi famosi Perché andando ai concerti Tutti quelli che vengo Facendo Facendo quello Però no Preferisco poi Al massimo Faccio un ritratto Raccontando magari Di una persona Magari E' un ritratto Proprio programmato Cioè vado Da sindaco A fare il ritratto L'hai fatto Non l'hai fatto Non ti piace come idea No no l'ho fatto E tuttora lo faccio Difficile Cioè non è una cosa frequente Da tutti i giorni Però non so Magari vedo su Facebook O leggo sul giornale Di un liutaio E dico Aspetta che lo contatto Gli faccio un ritratto Con gli attrezzi del lavoro In mano E propongo questa storia Ma solo in quella Quindi dal presidente Di Confindustria E l'Utriaio Cioè Scegliamo l'Utriaio? Tutte e due Scegliamo Perché comunque Hanno tutte e due Un ruolo importante Sai a volte Quando tu parli di un politico Io vorrei sdoganare Questa cosa Quando parli di un politico Per forza deve essere antipatico Per forza deve essere Quello Ah non è della mia parte Ah non Politico è un essere umano Che comunque Fa molta fatica Perché comunque Adesso far parte Della politica Non è facile Su un livello locale Poi non è facile E quindi E' sempre più una critica Che un complimento Però è comunque un essere umano Io penso a Diverse persone Io spesso Deri bacchetto Il nostro sindaco Ma mi ricordo Come disse una volta Come fai fai Dai qua fai male No Effettivamente non è faccia A livello locale Soprattutto E' sempre da criticare Io lo adoro Beppe Sala Veramente Come uomo Come Lo so Fa fatica Perché comunque C'è questo odio social C'è questa critica Ma a volte Quando leggo queste critiche Dico Andrea Però queste critiche A volte sono un po' Fatte così Io quando faccio una critica Devo avere una cultura Un background Da dire Conosco il piano regolatore Conosco i problemi di Milano Conosco tutto Allora faccio la critica Ma dire Lui non mi piace Perché ha fatto Mi vorrebbe da dire Hai una soluzione In mano Allora Non ti piace questo Dammi un Come direbbe milanese Feltì Feltì Non me ne viene in mente Nessuno Perché se incominci Ad avere un punto di riferimento È finita Perché poi ragioni Sempre come quello E rischi anche Di diventare un po' Spocchioso E lo vediamo nel cinema E lo vediamo nel cinema Con Vessanderson E tutti quelli che vogliono Fare Vessanderson Rischi di diventare Anche un po' Spocchioso Intanto perché ti posso dire Che mi piace molto Ma non voglio fare un nome Però Berengon Gardin Mi piace molto Ma tanto non riuscirò mai Ad arrivare al suo livello Perché mi manca ancora Non sono neanche Alla metà Della metà Della metà Dello studio Per cui preferisco Non avere un punto di riferimento Perché comunque Sono inarrivabili E poi comunque Facevano fotografie In un'epoca diversa Dove potevi fotografare Le facce tranquillamente Dove c'era un bianco e nero Allora sì Che il bianco e nero Adesso il bianco e nero A volte viene utilizzato Anche un po' È un filtro Un filtro come un altro Ma io ho visto fotografi Che fotografano anche Il carnevale In bianco e nero Quindi si è persa Un po' questa Però preferisco Non avere Non è una gara di bravura La fotografia Quindi Grazie alla fotografia Hai conosciuto tantissimi Milanesi Veramente una marea Prima di tutto Ti chiedo questo Chi è il milanese? Allora il milanese È la persona umile La persona che non Allora Noi siamo stati un po' rovinati Da questo famoso Milanese imbruttito Che non è solo il brand O Germano L'idea In tutto e per tutto Quando noi andiamo In giro per Ah ma poi Germano È un attore straordinario Però ti dico Poi ci stavete l'attore appunto No Quando andiamo in giro Per il mondo Ci riconoscono tutti Per quello stereotipo In realtà La persona milanese È una persona descritta Da una canzone di Lino Toffolo I bambini di Milano Nascono già Con il cuore in mano Perché effettivamente Il milanese È umile E generoso Poi quando lo dici Ridono tutti Ma in realtà Io penso a mio papà Ma penso a tutte le persone Che ruotavano intorno a mio papà I suoi amici Erano tutti così I suoi fratelli Erano tutti così Ma non perché fossero fortunati Perché il milanese È generoso E umile Ha un modo di esprimersi Che fa un'altra impressione Però è comunque Una persona che ti aiuta Sotto il covid Abbiamo visto veramente La vera natura Del milanese Una persona che comunque La prima cosa che ha detto È mollo tutto E aiuto E l'ha fatto Il covid ci ha aiutato tanto A far vedere il milanese Com'è veramente Ecco il milanese La domanda È una persona umile È una persona che Però fa sorridere Perché poi alla fine Tutti dicono Ma cosa stai dicendo E invece è così Non ti ho convinto No no Mi hai convinto benissimo E quindi Non hai guardato il telefono Per dieci minuti Infatti Quindi ultima domanda Rissami in chiusura No Tra tutti i milanesi Che hai conosciuto Se domani tu potresti scegliere A chi dare l'ambrogino d'oro Lo daresti a chi? A chi dare l'ambrogino d'oro Mamma mia Ci sono tante persone Giangli l'ha già preso No Mario Donadio Lo darei Perché Mario Donadio Non l'ha ricevuto Allora tutti mi dicono Andre tu l'ambrogino Ma no l'ambrogino d'oro Io non lo merito Perché io sono un giornalista Io faccio il mio lavoro Posso promuovere Milano Posso avere questa Io se volete darmelo Lo prendo Eh ma non ho fatto il tuo nome Scusami Però Mario Donadio È una persona Che lo merita Veramente In tutto e per tutto Mario è una persona Che adesso usa Milanesi dell'anno Milano Storytelling Awards Due anni fa Ah sì Tu sono rimasto malissimo Perché pensavo di essere io Tu già tevi venito Lo spanto Hai diventi Albero di Fatti No però torniamo a questo Mario Donadio è una persona Che si è inventato Mille cose Spiegami Chi è Spiegami Mario Donadio Non è facile Facciamo una raccolta di pc E diamoli ai bambini Bambini che non hanno avuto La possibilità di avere un computer E che fino al giorno prima Andavano a scuola E si sono ritrovati in dad Senza avere un computer Ti dava dei computer Belli Non quello scassato Dei computer bellissimi I bambini sono riusciti anche A installare i giochi Non ci siamo messi d'accordo Per questa cosa Andrea Forse non la sai neanche Credo Lo dico qua per tali dovuti Perché tanto è agli atti Questa cosa Noi siamo un'associazione Di promozione sociale Lo sapete Quindi mi facevo volontariato Per fare questa Produzione di Milano News Mario Donadio E la sua azienda Ci hanno donato Ben sei Mac Nel tre anni fa Per fare la redazione Per costruire la redazione Di Milano News Che è quella che poi adesso Continua a produrre Grazie a quei computer Che erano computer Vecchi ma super funzionanti Tanti che ancora oggi Stanno usando le ragazze di là Uno dei Mac che avete L'ho avuto per tanti anni È un bombastic Che è potentissimo Quello è quello che fa Mario Ad un certo punto Quando è finita L'emergenza pandemia Cosa ha fatto Ma abituiamo la gente A leggere E ha incominciato A raccogliere libri A portarli A destra e sinistra A giocattoli Queste cose qua Non è vero che un bambino Vuole per forza Il Power Ranger Di ultima generazione Io ho visto dei bambini Che ero lì Facevo delle fotografie Arrivavano E prendevano queste bambole Che erano anche leggermente usate Quindi la scatola era un po' rotta Ma la gioia Di vedere questi bambini E l'ultima cosa È proprio stata quella Che io Forse con una fotografia Riproporrò a Natale Ecco Quella è un'altra fotografia importante Ad un certo punto Mario Donadio Eravamo sui navigli Mi sembra Allestisce questo banchetto Dove tu puoi prendere un gioco E ha fatto venire una scolaresca Di bambini Loro potevano scegliere un gioco E c'è stato un bambino Che ha preso l'albero di Natale Che in realtà era soltanto lì Di decorazione L'albero di Natale Andava E gli fa Posso prendere l'albero di Natale E lui non sai mai Se è quello il bambino più sveglio O più tonto Non sai mai Ad un certo punto Non sei il genio assoluto No ad un certo punto Questo bambino ha detto Perché in casa mia Non ce l'abbiamo E mio papà ha detto Non spendiamo per prendere Perché non ce la facciamo A prendere un albero di Natale E poi lui voleva anche un altro bambino Allora Un bambino ha portato a casa la punta E l'altro bambino ha portato a casa l'albero Con la promessa Che il prossimo Natale Switchano Questo è Mario Donadio Ecco lui L'ambrogino d'oro Lo merita veramente E che Ci vuole anche qualcuno Che ti candidi Io non l'ho mai capito Come funziona veramente No no Però sarebbe bello anche Ecco Forse una cosa dell'ambrogino Sarebbe bello che magari ci fosse anche Non so Due o tre premi proposti dalla gente Quindi Perché magari La giugna popolare La persona che candida Magari non conosce tutte le cose O si lascia portare da segnalazioni Però ci sono Chiarissimo E basta Adesso comunque ci potremmo A casa i nostri bei panettoni d'oro Che tutti noi abbiamo vinto Almeno una volta Il panettone d'oro L'abbiamo vinto Io non l'ho mai vinto Ma ti danno anche il panettone Ah in me no Ci sono rimasto molto male Io devo dire Sai che conoscendomi Ci sono rimasto molto male E che ha pensato Mi ha offerto Un piccolo discorso sui premi Allora il premio lo merita Io lo faccio per lavoro Questo La promozione di Milano È anche un po' il mio lavoro Il mio dovere Non c'entra con i premi Ci sono delle persone che Dopo il lavoro Dalle sei fino a mezzanotte Dedicano il tempo agli altri C'è Non mi ricordo più come si chiama Però Quella ragazza che È francese Che fa i pacchi regalo Per O un lapsus Però Lei ad un certo punto ha detto Boh Inventiamo dei pacchi di regalo Per le persone Che non possono permetterselo E mi diceva Andrea sai Qua si vede la foto Dove io sorride Tutto quanto Ma io è da un mese Che vado avanti Giorno e notte A fare questa cosa qua E quindi Ma sono tante queste storie Sono tantissime E spesso per fortuna Vengono qua A raccontarsi Quindi sono contento Andrea L'intervista che non hai mai fatto E che vorresti fare Ad Andrea Kerchi L'ho fatta adesso Volevo metterti nel sacco Impossibile metterti nel sacco Finalmente l'ho fatta Andrea Grazie mille davvero Per essere qua In studio con noi E Chissà Ci vediamo in giro Scattando foto Di questa Semplicemente Milano Semplicemente Fabio Grazie mille Andrea Kerchi Grazie mille anche a voi Che ci avete seguito Ci vedremo Prestissimo Nella prossima puntata Di miei carissimi Milanesi Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie a tutti.